Per una volta una bella notizia, che arriva grazie alla sinergia e all'impegno di tutti. La Caritas, la Chiesa di Milano, aziende pubbliche e fondazioni private, l'aiuto di decine e decine di volontari. Così, a tempi di record, dopo solo cinque mesi di lavori, si inaugura il nuovo rifugio Caritas per il ricovero notturno dei Senza Fissa di Mora, che sorge con una struttura di avanguardia, laddove per trent'anni ha svolto la sua generosa e storica attività fratele Ettore, in via San Martini. E arrivano allora per quest'inaugurazione il cardinale Scola, che benedice gli spazi, il sindaco Pisapia, il presidente di Caritas Ambrosiana, e i presidenti delle tre fondazioni, Cariplo e nel cuore, Milan, che hanno reso possibile la ristrutturazione del rifugio. E poi le ferrovie dello Stato, il padrone per così dire di casa. Tutti concordino sottolineare il dovere dell'accoglienza in un momento di crisi come l'attuale. Soprattutto in questo momento di crisi, in cui molti uomini del lavoro, delle fasci più basse, saranno destinati purtroppo a pagare pesantemente, spero che la solidarietà cresca e spero che chi ha la responsabilità economica e politica del paese inventi, trovi, crei incessantemente le forme per alleviare al massimo questi disagi. Il progetto che la Caritas mi ha presentato, ho avuto modo di leggere, sembra a me molto creativo ed intelligente, perché non è soltanto un intervento sul bisogno immediato, ma è previsto tutto un processo di recupero e di rinserimento, per quanto è possibile, perché la libertà dell'uomo è la libertà dell'uomo. Ma ci sono tante le forme e i modi con cui si deve e si può operare, perché ricresca la coesione nella nostra società e la fiducia reciproca. Una realizzazione, insomma, che onora Milano, costata 1.300.000 euro, versati dalle fondazioni, di cui 200.000 anticipati da Caritas Ambrosiana, che gestirà concretamente la struttura. Aperta sette giorni su sette, dalle 18 alle 8.30, in grado di ospitare 64 persone per la notte, con 20 posti riservati a permanenze di una decina di giorni e 40 per ospiti che seguiranno un periodo più lungo di reinserimento sociale. Anche questo una novità per un luogo di pronta accoglienza. La nascita e lo sviluppo di questa iniziativa danno un segnale importante di solidarietà che ci deve essere soprattutto nei confronti dei più deboli. In questo il comune di Milano c'è e ci sarà sempre. Grandi associazioni pubbliche, le ferrovie dello Stato, fondazioni private, ovviamente la Chiesa di Milano. Nel senso di quella sussidiarietà che ci qualifica anche nel caritativo come diocesi? Certo, qualunque attenzione caritativa ha bisogno di molte energie. Nessuno credo può riuscire ad agire da solo. Caritas ha bisogno di trovare chi la sostenga nel suo cammino e ha certamente il sostegno prima di tutto della base della comunità cristiana che è sempre molto attenta alle esigenze caritative e che in questi anni è molto cresciuta anche nella sua capacità di accogliere e di servire. Grazie. Grazie.